Il secondo grande paese dell'area orientale asiatica è il Giappone. Il Giappone presenta in una superficie abbastanza ridotta quasi 127 milioni di abitanti, con una grande densità di popolazione di 334 abitanti per chilometro quadrato. È una monarchia parlamentare fondata su un'antichissima dinastia imperiale. L'arcipelago del Giappone è lungo circa 3000 chilometri, è formato da quattro grandi isole, Kyushu, Shikoku, Honshu e Hokkaido, più altre 7000 isolette. In tutto l'arcipelago ci sono 290 vulcani, 60 dei quali ancora attivi. Infatti il Giappone fa parte del cosiddetto Ring of Fire, cioè anello di fuoco, che riunisce le faglie tettoniche di diverse placche tettoniche, che in corrispondenza delle quali appunto si verificano la maggior parte dei fenomeni vulcanici. Il monte Fuji è il più alto, il vulcano più alto, anche la vetta più alta del Giappone. L'isola più grande, l'isola di Honshu, ospita la pianura più grande del paese. Il Giappone, se non fosse per i suoi fenomeni vulcanici e per la corrente pacifica Kuroscio, che svolge la stessa azione della corrente del Golfo del Messico nell'Atlantico, sarebbe un paese congelato, perché si trova praticamente alla stessa latitudine della Siberia. Ma questa corrente calda, nonché i fenomeni vulcanici primari e secondari, mitigano la temperatura e rendono la temperatura delle acque adatta per lo sviluppo della vita sottomarina, che alimenta il grande mercato della pesca. Pur essendo molto numerosa, la popolazione giapponese, a partire dal XX secolo, è in costante calo, con un indice di fertilità di 1,4 figli per donna e un'alta speranza di vita, circa 82 anni, superiore agli 82 anni, con un'età media che arriva a circa 47 anni. Come potete vedere dalla piramide dell'età, questa è una piramide fortemente sbilanciata, con una base molto ristretta e con un allargamento nell'età più elevate, quindi fortemente diseguale. La lingua nazionale giapponese è le due religioni più diffuse, che si scrive anch'essa con ideogrammi come il cinese, e le due religioni più diffuse sono lo shintoismo e il buddismo, che più che religioni sono delle filosofie, dei modi di vivere, che vengono pienamente adottati dai giapponesi per quanto riguarda il loro approccio al lavoro e alla vita in generale. L'Europa e il Giappone sono due mondi molto lontani, ma che si attraggono a vicenda. Ricordiamo che il Giappone, fino alla fine dell'Ottocento, è vissuto in completo isolamento, ha inibito e impedito qualsiasi forma di immigrazione. Ancora oggi, ottenere la cittadinanza giapponese è molto difficile. L'unico requisito per poter essere cittadino giapponese è avere ambe due genitori di origine giapponese, quindi praticamente impossibile avere la cittadinanza giapponese. Dicevamo che sono due mondi lontani, ma che si attraggono. I giapponesi sono sempre stati affascinati e ammirati della cultura occidentale, della sua produzione industriale e della sua superpotenza militare, cercando di emularla in molti modi e spesso superandola. Viceversa, hanno tenuto sempre a custodire gelosamente le proprie tradizioni, sia religiose che linguistiche, che culturali. L'Europa, invece, a partire dagli anni 70 del 900, ha subito la fascinazione della cultura giapponese attraverso la diffusione delle anime e dei manga. Cosa sono? Sono i fumetti e i cartoni animati giapponesi, così profondamente legati alla cultura giapponese, alle traduzioni giapponesi, ma anche così moderni. Ricordiamo i grandi robot della saga di Mazinga Z, di Grande Mazinga e UFO-robot, che hanno cresciuto milioni di adolescenti in Europa, e i nuovissimi cartoni dedicati a Naruto, a Dragon Ball, a One Piece, nonché i Pokémon, che hanno, appunto, si può dire, colonizzato l'Europa. Tokyo, la capitale del Giappone, conta circa 13 milioni di abitanti, e situata nella pianura Kanto, una delle aree più sismiche del pianeta, in cui le efficienze e la tecnologia giapponese hanno permesso di edificare persino dei grattacieli, con rigidi criteri antisismici. La mancanza di spazio, dovuta alla iperpopolazione delle città, ha spinto a un'estrema ottimizzazione degli spazi. Come vedete in questa foto, nello spazio di uno sgabuzzino è rinchiuso un appartamento per due persone. Convivono a Tokyo, come abbiamo visto, anche di Pechino, elementi tradizionali, come il Palazzo Imperiale Rinascimentale, e grattacieli ipermoderni. Un capillare sviluppatissimo sistema di trasporti pubblici consente alla popolazione di Tokyo di spostarsi senza utilizzare l'automobile, anche perché se tante persone tutte insieme dovesse utilizzare l'automobile sarebbe un dramma. Questo è il famosissimo e modernissimo treno proiettile, che supera agevolmente i 300 km orari, basandosi sulla forza del magnetismo. Il 55% della popolazione, ossia 70 milioni rispetto alla popolazione totale giapponese, vivono nella grande conurbazione che si è creata tra Tokyo e le città del sud di Osaka, Kyoto e Kobe. Che vuol dire conurbazione? Che queste città, queste poche città, si sono estese così tanto da fondersi in un unico agglomerato urbano, che occupa totalmente la grande pianura di quest'isola. Proprio il fatto che le grandi pianure fertili dell'isola più grande del Giappone sono occupate dalle città, riduce lo spazio coltivabile al solo 13,5%. Infatti il Giappone deve importare il 60% del fabbisogno alimentare. Nell'agricoltura è molto sviluppato l'allevamento dei bacchi da seta e anche, sempre del settore primario, la pesca, che sfrutta massicciamente le acque del Pacifico, anche un po' troppo, mettendo a rischio l'ecosistema marino. È il settore secondario la vera forza dell'economia giapponese. Con una grande industria che riguarda la meccanica di precisione, l'elettronica, la mitroelettronica e la cantieristica, ma anche l'industria automobilistica e motociclistica. Il Giappone è privo di risorse minerarie, importa molte materie prime e in campo energetico sfrutta massicciamente l'energia nucleare. Seppure con alti rischi, infatti nel 2011 un maremoto ha provocato il crollo di un reattore nucleare a Fukushima con conseguenze ancora oscure per il nostro ambiente. Nel settore terziario, dopo la borsa di New York, la borsa di Tokyo è la più importante al mondo. Ne trae gran beneficio il sistema bancario e fiscale. Il commercio estero è attivissimo, il Giappone esporta auto, motociclette, elettrodomestici avanzati e importa materie prime e risorse alimentare. L'export è favorito dalla formazione di grandi agglomerati industriali, i cosiddetti Keiretsu, che raggruppano grandi marchi come Canon, Yamaha, Nissan, Itachi, stabilendone le campagne pubblicitarie, le politiche di importazione e di esportazione e le politiche produttive. A differenza di quanto si diceva dell'industria cinese, l'industria giapponese è sinonimo di qualità e di durata nel tempo, perché i giapponesi hanno proprio nella loro forma mentis, che deriva anche da caratteristiche delle loro religioni, il fatto di fare le cose per bene o di punirsi, autofragellarsi, se non ci riescono. A nord del Giappone, a est della Cina, troviamo la penisola della Corea del Sud, completamente circondata dal mare, tranne che per la parte in cui è attaccata al continente asiatico, alla Corea del Nord. Questa linea di confine, il 38esimo parallelo, è un'area demilitarizzata dopo la guerra di Corea degli anni 50, che ha sancito la divisione tra i due paesi, Corea del Nord e Corea del Sud. È presente una conformazione montuosa al centro e nella fascia orientale, mentre è pianeggiante a ovest e nella fascia meridionale. La linea costiera si presenta frastagliata e coronata da tante piccole isolette vulcaniche. Il clima è di tipo oceanico. rispetto alla superficie la densità di popolazione è molto alta, 513 abitanti per chilometro quadrato. Bassissima natalità, come il Giappone presenta una bassissima natalità e un forte invecchiamento. Come in Giappone si stima che nei prossimi 25 anni ci sarà in questi due paesi un drastico calo della forza lavoro, anche perché le politiche migratorie non consentono l'accesso a questi paesi. Quello coreano è un popolo con una forte identità nazionale e molto predisposto alle innovazioni. La lingua nazionale è il coreano, ma quasi tutti studiano e conoscono l'inglese. Le religioni più diffuse sono il cristianesimo, il buddismo e il confucianesimo. L'economia si basa sui grandi marchi tecnologici della telefonia come le Gia e Samsung, delle automobili come Hyundai e Kia, dei televisori e dei computer. Anche in Corea come in Giappone ci sono grandi agglomerati industriali, i Chibol, che dirigono la promozione e l'export dei grandi marchi coreani. Dopo un periodo di caduta in disgrazia di questi grandi marchi a causa di episodi di corruzione sono tornati a essere tra i più potenti al mondo. Infine, il paese gemello della Corea del Sud ossia la Corea del Nord che confina il nord con la Cina e il sud con la Corea del Sud per lo più montuosa la montagna più alta il monte Pektu alla sua cima è un vulcano spento alla sua cima che ospita il lago Paradiso una delle reputazioni naturalistiche di questo paese è un clima molto freddo un clima continentale freddo nel ventesimo secolo c'è stata una progressiva e rapida e indiscriminata deforestazione con gravi ripercursioni sull'erosione del suoro molto spesso soggetta ad alluvioni ed inondazioni la popolazione è in lieve crescita anche perché il regime impedisce fenomeni migratori se non alcuni che riescono a fuggire appunto dal regime il paese è guidato da un unico partito di orientamento socialista dal 1945 ma di fatto è una monarchia assoluta della famiglia Kim dopo il bisnon il nonno e il padre adesso il giovane Kim comanda sulla popolazione della Corea del Nord e si comporta come una delle dittature più spietate della terra è uno dei paesi più poveri al mondo non commercia con l'estero anche perché è soggetto a molte sanzioni malgrado il suo stato di povertà investe molti soldi negli armamenti nella ricerca nucleare e il suo principale alleato è la Cina che formalmente però non appoggia il regime di Kim con cui però fa grandi affari soprattutto nello sfruttamento delle foreste con quest'ultimo paese si conclude la nostra analisi della Asia orientale è un'esplosione di un'esplosione di un'esplosione